Omega Speedmaster Limited Edition, eccellenza e esclusività L'orologio da polso Speedmaster Limited Edition rappresenta l'apice dell'artigianato orologero, unendo maestria tecnica e unicità senza pari. Ogni dettaglio è curato con attenzione, dall'incastonatura delle gemme alla lavorazione del quadrante e delle lancette. Questo modello rappresenta il connubio perfetto tra ingegneria di alta qualità e estetica raffinata. Questi orologi sono prodotti in numeri molto limitati, spesso non superando le centinaia di pezzi al mondo. Ciò conferisce a ogni esemplare una rara unicità, rendendo ogni orologio una testimonianza dell'artigianato e dell'individualità. Tra gli Speedmaster Limited Edition ricordiamo l'Apollo 11, la leggenda in collaborazione con Michael Schumacher, Moonwatch 1957, missione su Marte e le Limited Edition per le Olimpiadi. Lo Speedmaster Limited Edition presenta La funzione cronografica visibile sul quadrante attraverso due subquadranti a essa dedicati, lunetta con scala tachimetrica, datario con finestrella tra le ore 10 e le ore 11 o all'interno del subquadrante delle ore cronografiche alle ore 6, il contatore dei piccoli secondi a ore 9 o a ore 3 con funzione anche giorno-notte, GMT. La dicitura 5 e 34 GMT, stampata in rosso, sullo Speedmaster Limited Edition indica l'ora in cui Cernan lasciò la sua ultima impronta sulla luna, mentre il contatore a ore 9 è caratterizzato da una rappresentazione del dio Apollo e della luna. Nello Speedmaster Limited Edition Apollo 11 in occasione del cinquantesimo anniversario invece a ore 9 si trova l'esclusivo contatore in oro moonshine con l'incisione che raffigura Basal Dream mentre sbarca sulla superficie lunare, o un ulteriore richiamo all'impresa spaziale è l'immagine della sua impronta incisa sul fondello. Indossare uno Speedmaster Limited Edition è un segno di personalità e status. Questi orologi hanno adornato i polsi di attori, musicisti e uomini d'affari di fama internazionale, consolidando il loro status come simbolo di lusso e stile. Alcune edizioni limitate dello Speedmaster Limited Edition sono diventate vere e proprie opere d'arte collezionabili. Investire in uno Speedmaster Limited Edition è più di un semplice acquisto, è un investimento nel lusso e nell'eleganza, significa abbracciare l'arte orologera nel suo stato più puro e celebrare l'unicità e l'individualità. Sia che tu sia un collezionista appassionato o un amante del lusso, questo orologio da polso rappresenta un simbolo di stile senza tempo e di raffinatezza senza pari. Grazie a tutti.